dark side baby 7 7 7 0 benvenuto che gli sembra shabriri timi capo di art attack esatto palesemente l'essere più odiato del mondo giovanni muccia c'è il signore delle fiamme lo troviamo con le forbici sotto lei muccia c'ha lord of the flame usate che ho preso troppi cazzi stasera anche se per motivi romantiche è sempre più clippato ragazzi è sempre più clippato ragazzi lo stiamo perdendo oh no no vigliacco sporco vigliacco torna da me torna da me vile povera regia lucaria povera rennala lanciami la luna e la perdio ma torrent avete visto no fuggi fuggi via sto bene sto bene no no buttati ti prego no 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 Grazie a tutti.